Roma in diretta, buongiorno ai nostri telespettatori, le 13 e 2 minuti, benvenuti al nostro appuntamento. Saremo in vostra compagnia come facciamo ogni giorno fino alle 2, fino alle 14, poi sapete ci sarà il cambio della guardia con Andrea Bozzi e ditelo a Roma 1. Di fatto saremo in diretta fino alle 15 e 30, linee sempre aperte, la possibilità di fare domande, intervenire e partecipare alla nostra trasmissione. Prima di presentarvi l'ospite di oggi, sempre come facciamo, ormai abbiamo i nostri rituali quotidiani, andiamo a vedere molto rapidamente dalla stampa online quali sono le notizie più importanti della mattinata. Una mattinata che come annunciato è stata caratterizzata dallo sciopero del trasporto pubblico e eccolo qua, lo troviamo in apertura sul sito del Corriere della Sera, Dorso Romano, sciopero, trasporti a rischio bus e metropolitane, ferme la Roma Lidora, Roma Viterbo. Giornata di passione, così cogliamo l'occasione anche per ricordarlo, ai nostri telespettatori per l'agitazione degli autisti dalle 8 e 30 alle 12 e 30. Possibili altri disagi per l'assemblea sindacale alle 15 e 30 e poi c'è l'incontro, ci ricorda il Corriere, sindaco, vigili, urbani. Ed è interessante perché il Corriere della Sera poi fa un resoconto su quello che definisce il fronte delle proteste, Atac, Cotral e vigili contro il Campidoglio, un po' questo lo stato dell'arte in questo momento nella nostra città. E poi ancora in primo piano l'allarme smog, tornano per due giorni le targhe alterne, stretta sul riscaldamento nella nostra città, non migliora la qualità dell'aria nonostante appunto i provvedimenti che sono stati presi anche la scorsa settimana. E poi vi segnalo quest'altra notizia, Casa Pound, il vicepresidente condannato a tre mesi di carcere, la protesta dei Forconi alla sede della Commissione dell'Unione Europea, e c'è stato questo arresto clamoroso, ma la protesta dei Forconi continua e continuerà anche nei prossimi giorni, ne parleremo più tardi, velocemente vediamo anche Repubblica e poi chiudiamo questa brevissima rassegna stampa che Repubblica apre invece con la notizia degli attriti in Prota e Morgante, Campidoglio, la tempesta è in giunta in Prota e Morgante appunto al rapporto da Marino. Il sindaco dà un ultimatum, scegli tra noi due, è stato dato un ultimatum al sindaco, scegli tra noi due l'ennesimo scontro sui 230 milioni per la metro C, la provocazione di chi si ritiene indispensabile, sa di avere la copertura dei renziani e crede perciò di essere intoccabile il commento di Repubblica. Poi andiamo a vedere ancora i trasporti con lo sciopero, 20% in sciopero, ci dice Repubblica, dunque un'adesione direi modesta, aperte le metropolitane, ridotti invece i bus. Questo è quello che succede nella nostra città, che ha ospitato nei giorni scorsi un importante congresso, un congresso dedicato alle novità sulle patologie della tiroide. Sapete che sulla tiroide purtroppo ci sono una serie di problematiche legate a quest'organo così importante e vogliamo fare il punto anche perché se ci sono delle novità, le novità riguardano in particolare ovviamente le cure e di questo siamo ben lieti. E allora ne parliamo con il professor Alfredo Pontecorvi, che è il direttore del Dipartimento di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo al Policlinico Gemelli qui a Roma. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto nei nostri studi, tra l'altro il professore è stato anche il presidente di questo settimo congresso nazionale che è stato organizzato dall'Associazione Italiana della Tiroide. Allora professore, prima di andare un po' sui contenuti di questo settimo congresso, un appuntamento molto importante che ha visto radunati attorno allo stesso tavolo tante menti e tanti medici e scienziati che lavorano attorno a questo tema, vorrei chiederle che cos'è la tiroide e perché spaventa tanto un problema così diffuso per tante persone. Sicuramente è un problema diffuso ma non deve assolutamente spaventare perché la maggior parte delle patologie della tiroide sono curabili. La tiroide è una ghiandola che si trova alla base del nostro collo e produce gli ormoni tiroidei, produce anche un altro ormone meno conosciuto che si chiama calcitonina e che regola il metabolismo del calcio e del fosforo. Ma quello per cui è più conosciuta questa ghiandola è la produzione degli ormoni T4 e T3, gli ormoni tiroidei in senso stretto, che regolano un po' tutto il nostro metabolismo, il metabolismo energetico dell'organismo nell'adulto, mentre hanno un ruolo decisivo nello sviluppo del sistema nervoso centrale nel feto e nel neonato. Per cui sono ormoni molto molto importanti. Quindi è una ghiandola essenziale nel metabolismo per regolare un po' tutto, no? E lì piccolina e nascosta però... Noi diciamo che non c'è organo che non sia regolato dalla tiroide, in genere è così per tutti gli ormoni, ma in particolare è fondamentale nella fase di sviluppo organico, fetale e neonatale, soprattutto per il sistema nervoso centrale, perché una carenza di ormoni tiroidei in quel periodo crea dei danni che diventano irreversibili se non sono curati. È il motivo per cui a tutti i neonati si fa, e le mamme lo avranno visto, una piccola puntura al tallone in seconda, terza giornata, si prendono delle gocce di sangue, si analizzano per, si chiamano screening neonatali per le malattie congenite, e una di queste è proprio l'ipotiroidismo congenito, cioè l'assenza della tiroide, soprattutto degli ormoni tiroidei, che è decisiva in questa fase per un normale sviluppo del sistema nervoso centrale. Senza ormoni tiroidei si rimane cretini, si chiama cretinismo la malattia. Quindi non è un termine volgare, diciamo, ma è proprio un termine scientifico. Nasce da lì, è un termine scientifico. Accidenti, ci dà anche questa notazione linguistica, quindi da lì arriva questa definizione, perché non consente quindi evidentemente uno sviluppo sano. C'è una riduzione del numero dei neuroni, ma soprattutto c'è un'incapacità dei neuroni di formare quei rapporti tra di loro, di formare i rapporti che comunemente ci sono tra una cellula nervosa e l'altra, che formano un intricato albero con tanti rami che si intersacchiano tra di loro e vengono a contatto l'uno con l'altro. La carenza degli ormoni tiroidei non fa sviluppare bene questo albero, quindi è come se avessimo un albero in secchito, tipo quell'invernale, anziché una florida querce. Professor Pontecorbi, certo per voi sono cose scontate, ma mi lasci dire che è veramente sorprendente pensare a come è complessa la macchina del corpo umano e come appunto anche semplicemente una piccola ghiandola che non funziona possa creare poi tutte queste conseguenze. Lei giustamente ci diceva però intanto le buone notizie sono che la curiamo sempre meglio. Questo è il caso, cioè l'obbligatorietà dello screening dell'ipotiroidismo congelito fa sì che questi bambini vengano neonati, vengano riconosciuti subito, vengano trattati e nel momento in cui sono trattati somministrando l'ormone tiroideo che manca si sviluppano normalmente. È un'obbligatorietà di screening per tutti i neonati e dagli anni 70 ormai è stata resa obbligatoria e la malattia è stata estirpata di fatto. Pensate che cosa straordinaria. Quindi riuscendo a intercettare subito questa assenza la si può sostituire. Ci diceva appunto che fin dagli anni 70 si è arrivati a questo per quello che riguarda i neonati. C'è un'idea diffusa, io le chiedo subito intanto cosa c'è di vero, sul fatto che siano in aumento le malattie legate alla tiroide in questi ultimi anni, qualcuno dice legate anche all'evento di Chernobyl. Vorrei chiederle se questo è vero e se comunque c'è un nesso tra le malattie della tiroide e il clima, l'ambiente in cui viviamo. Fa domande molto interessanti. Allora rispondiamo alle varie domande che mi ha posto. La prima, sono in aumento? Sicuramente sì. E penso che si tratti anche di un reale aumento delle malattie della tiroide, soprattutto di alcuni tipi di malattie della tiroide. Sull'altro lato c'è anche un aumento della diagnosi di queste malattie della tiroide che forse prima non erano riconosciute. Oggi si utilizza per esempio lo strumento ecografico molto di più del passato e quindi si vengono a scoprire tutta una serie di noduli che prima non erano individuabili con la semplice palpazione. Per cui si vedono noduli piccoli, li si indaga maggiormente, si fa un esame agoaspirativo su di essi e magari si fa la diagnosi di un carcinoma. Ne consegue che i noduli tiroidei sono in aumento come diagnosi, i carcinomi tiroidei sono in aumento come diagnosi. Negli Stati Uniti sono passati negli ultimi 20 anni dal 14esimo al sesto posto dei tumori più frequenti dell'uomo. E lei dice però che c'è una forte componente del fatto che vengono individuati più di prima? C'è un bias diagnostico, cioè c'è una migliore diagnostica che li fa scoprire di più e anche prima. Difatti l'aumento di questi tumori della tiroide che si osserva è soprattutto a carico dei tumori di piccole dimensioni, fino a 2 cm. Quindi c'è un aumento, ma soprattutto dei tumori piccoli, proprio perché li si scopre prima, li si fa la diagnosi prima, probabilmente li si cura anche prima. Ma c'è da dire che una quota di queste neoplasie della tiroide, di questi tumori tiroidei, magari restano ferme, inerti, per tanto tempo all'interno della ghiandola e potrebbero teoricamente non svilupparsi mai. Una volta che uno fa la diagnosi, ovviamente è poi costretto a toglierli. Ma le dico che per esempio in Giappone i tumori della tiroide diagnosticati, se sono inferiori al centimetro, in alcuni ospedali non vengono più rimossi chirurgicamente, vengono lasciati in sede e vengono soltanto osservati nel tempo con l'ecografia per vedere se si modificano, se crescono, se cambiano forma, se cambiano dimensioni e solo in quel caso si interviene. Questo perché a volte toglierli potrebbe essere anche peggio? Nel momento in cui lei toglie un nodulo della tiroide, in genere finisce per togliere o mezza o tutta la tiroide, in genere si toglie tutta e quindi crea una condizione di ipotiroidismo, cioè l'assenza di ormoni tiroidei, per cui il soggetto è poi costretto ad assumere una compressa di ormoni tiroidei o tutti i giorni. È una terapia facile, ma è una terapia che dura per tutta la vita. Se si può evitare. Se si può evitare perché il tumore è indolente, rimane lì e il soggetto morirà a 90 anni, tutt'altra cosa, senza che quel tumore si sia sviluppato. Quindi ci troviamo di fronte effettivamente a questa epidemia di noduli, a questo aumento. C'è quello che dicevamo prima, un nesso con il clima, con i disastri ambientali. I problemi ambientali hanno sicuramente il loro ruolo. Adesso me lo dice il professore. Intanto voglio ricordare ai nostri telespettatori che le linee sono aperte, quindi se ci sono anche delle domande e curiosità da parte vostra, visto che abbiamo detto comunque è un tema che credo stia a cuore a tanti, un problema anche con cui tanti fanno i conti quotidianamente, 06 59 10 285, il numero che leggete in sovraimpressione, è per voi. Ci diceva dunque che c'è? C'è sicuramente. Lei ha fatto riferimento a Chernobyl. Sicuramente Chernobyl è stato, se vogliamo, un esperimento naturale che ci ha fatto capire come la tiroide, soprattutto la tiroide dei bambini, degli adolescenti, sia estremamente sensibile alle radiazioni ionizzanti. A Chernobyl c'è stata una fortissima emissione di radiazioni, soprattutto di iodio 131, che è lo iodio, tutti sappiano, che viene captato, concentrato all'interno della tiroide. E questo iodio radiattivo ovviamente ha irradiato le cellule tiroidee provocando la formazione di tumori della tiroide. E abbiamo osservato nelle popolazioni di Chernobyl e nei dintorni un aumento notevolissimo di tumori della tiroide. Quindi è certo che c'è un nesso. Quindi lì noi abbiamo capito un nesso specifico che c'è tra radiazione ionizzante e tiroide, ma ripeto, solo dei bambini e degli adolescenti, perché la tiroide irradiata delle persone adulte, cioè coloro che nel 1986, quando scoppiò la centrale di Chernobyl, avevano 40-50 anni, non ha sviluppato alla stessa maniera tumori della tiroide. Forse li svilupperà più tardi? Non lo sappiamo. Sicuramente i bambini di Chernobyl hanno sviluppato tumori a brevissimo tempo. Dopo 4-5 anni si sono cominciati ad osservare quest'aumento esponenziale di tumori della tiroide. Fin qui nel nostro paese? No, questo lo esclude, è una cosa che si sente dire, molti pazienti me lo chiedono, no, perlomeno non abbiamo dati che la radiazione di Chernobyl sia arrivata in Italia in maniera significativa, tale da produrre situazioni simili a quelle che si sono verificate nel circondario della centrale. Quindi è un discorso che riguarda più l'Ucraina e la Bielorussia, ma bisogna fare attenzione perché molti ucraini e bielorussi vivono adesso in Italia, vivevano in quelle zone nel 1986 e magari avevano meno di 20 anni nel 1986. Le dico un'altra cosa, ci sono stati dei casi, alcuni descritti, di tumori della tiroide sviluppati in bambini che nel 1986 scoppiò ai primi di maggio, erano ancora in utero. Quindi c'è stata un'irradiazione della tiroide fetale che poi ha sviluppato un tumore successivamente. Quindi un autentico disastro che però non ha condizionato così tanto l'incidenza dei casi dalle nostre parti. Quindi questa incidenza è dovuta a quello che diceva lei, cioè una maggiore attenzione da parte dei medici, quindi una maggiore capacità di individuare? Probabilmente una maggiore diagnosi. Sebbene una mia collega napoletana ha dimostrato un aumento del numero di tumori della tiroide e soprattutto quella che noi chiamiamo anticipazione, cioè il tumore della tiroide tende ad avere un picco intorno ai 40 anni e lì ce l'aveva prima, in età più giovanile, proprio in quelle aree che oggi sono sotto indagine come aree dei... si chiamano i fuochi? La terra dei fuochi. La terra dei fuochi. Ecco, in quelle stesse aree questa ricercatrice, in tempi non sospetti perché la ricerca è del 2010, quindi quando ancora non se ne parlava e si sapeva poco, lei mirava di più a guardare l'effetto del Vesuvio e dei vulcani perché sempre in tema di ambiente i ricercatori siciliani hanno dimostrato che nelle zone intorno all'Etna c'è una maggiore prevalenza ai tumori della tiroide. Quindi questo ci lascia capire che o qualcosa che viene fuori dall'Etna e sono indagati per esempio alcuni metalli pesanti presenti nelle acque delle sorgenti dell'Etna o sostanze sotterrate dalla malavita in maniera... Quindi o la mano della natura o la mano dell'uomo, ancora è da capire, però qualcosa c'è... O la radiazione di cernomi, sicuramente hanno la capacità di influenzare la tiroide, ripeto, molto di più, più si è giovani più si è esposti. E quindi maggiore deve essere l'attenzione, adesso poi ne parliamo. Tornando a questo settimo congresso che c'è stato qui a Roma, avete affrontato un tema importante, cioè le novità che ci sono. Perché ce ne sono? Proprio perché è così studiata. Le chiederei in estrema sintesi naturalmente quali sono queste novità? Ma ce ne sono diverse. Sicuramente un altro argomento interessante per una trasmissione come questa può essere quello dei rapporti tra tiroide e gravidanza. Abbiamo già detto sull'importanza del giusto apporto di ormoni tiroidei nel momento per il feto e soprattutto per il neonato. Ma c'è tutto un discorso legato all'andamento della gravidanza e all'abortività in cui gli ormoni tiroidei possono intervenire in maniera positiva. Nel senso che oltre ai noduli della tiroide, che colpiscono il 50% delle donne, abbiamo fatto recentemente uno screening dei tumori della tiroide al foro italico, abbiamo fatto circa 2200 ecografie in un weekend, un sabato, una domenica, un record, abbiamo otto ecografi, abbiamo quindi esaminato una popolazione, la maggior parte di quelli che venivano non aveva precedentemente effettuato un'ecografia della tiroide, cioè non sapeva di avere una patologia tiroidea e abbiamo scoperto noduli nel 50% circa di questa popolazione. Sono noduli molto piccoli, come le dicevo, quindi bisogna stare attenti. Dice che non ci dobbiamo spaventare, ma insomma un po' qui comincio a preoccupare. No, perché proprio questo bisogna evitare, cioè bisogna essere poi onesti nel riferire bene come stanno le cose, perché tumori piccoli e noduli piccoli della tiroide sono insignificanti. Possono avere un significato se hanno delle caratteristiche che ci fanno sospettare che possono essere dei noduli maligni. Però lei mi sta dicendo che è bene sapere che ci sono e vedere di quale natura. Insomma, credo di capire che dobbiamo fare un po' di prevenzione e andarci a controllare. Non mi sapremmo rispondere. Non mi sapremmo rispondere. Forse è meglio non saperlo. No, non mi dica così. Si vive più sereni. No, ho detto da un medico questo no. Per quello che le ho detto, siccome sono curabili e siccome sovente rimangono indolenti, anche se qualcuno di questi noduli fosse un tumore della tiroide, potrebbero non preoccuparci. Mi piace questo atteggiamento giustamente rassicurante, insomma, non allarmistico. Anche perché appunto anche le cure fanno passi da gigante in questo settore. Professore, anche di questo avete parlato al congresso. Sì, come no. Ci sono i nuovi farmaci biologici, ecco, alcuni tumori più aggressivi. Per esempio il tumore midollare della tiroide, quello che origina dalle cellule che producono la calcitonina, cioè l'altro ormone prodotto dalla ghiandola tiroide. Oggi sono tumori molto più aggressivi dei normali tumori della tiroide, che invece sono normalmente curabili in oltre il 95% dei casi, presi per tempo e trattati in maniera adeguata. Il carcinoma midollare della tiroide è più aggressivo, ha una mortalità maggiore, e per esso sono stati sviluppati dei farmaci specifici che vanno ad agire proprio sulla causa molecolare della malattia neoplastica, per cui riusciamo a prolungare di molto la vita di questi soggetti. Ecco, si sta realizzando non solo nella tiroide, ma anche per altri tumori, tumori del polmone, della mammella, del rene. Questi farmaci biologici mirati, che sono un po' diversi dalle vecchie... Ecco, biologici che vuol dire? Ma biologici è un termine per me improprio, così vengono riferiti. Sono farmaci mirati, ecco, gli inglesi la chiamano target therapy, terapia mirata, terapia al bersaglio, cioè vanno a colpire il meccanismo molecolare che causa il tumore. Quindi sono molto specifici per la cellula tumorale e meno specifici per gli altri tipi di cellule. Lei si ricorderà che le chemioterapie tradizionali davano un brusco calo dei globuli bianchi, la caduta dei capelli, davano una serie di problemi secondari, proprio perché il farmaco non andava ad agire esclusivamente contro la cellula tumorale, ma agiva anche contro altre cellule capaci di replicarsi nel nostro organismo, come i globuli bianchi, come le cellule del bulbo pilifero. Per cui gli davano queste complicanze. Non è che questi farmaci siano scevri da complicanze, anche loro hanno le loro complicanze, però sono molto più precisi, specifici, prolungano la malattia. Sa cosa sta succedendo? Un tempo la malattia neoplastica era una malattia progressiva, inesorabilmente progressiva, per cui uno cominciava a sviluppare una metastasi, poi di più, poi in un altro organo, poi nelle ossa, poi al cervello, e quindi pian piano, pian piano, si avviava verso una strada, una china progressiva, fino al decesso. Oggi questi farmaci non è che curano la malattia, non è che la fanno scomparire. In alcuni casi c'è un ammiglioramento, ma nella maggior parte dei casi c'è una stabilizzazione, per cui la malattia tumorale diventa una malattia cronica, come altre malattie croniche. Certo, comunque è già un risultato straordinario. Ne parlavamo di qualcosa di simile, con un ematologo dell'AIL, l'Associazione Italiana contro le leucemie, ci spiegava proprio questo concetto. Sicuramente le patologie dove questi farmi sono più efficaci, sono proprio le patologie dell'ematologia, le leucemie e l'info. Ecco, quindi funziona, lei mi dice anche per alcune patologie, alcuni tumori della tiroide, alcuni tipi di tumore della tiroide. Sì, sì, di altri organi. Funziona proprio, è certo, naturalmente. Professore, ci avviamo verso le conclusioni. Io vorrei capire, c'è un modo anche di prevenire queste patologie, visto che ci siamo chiesti se l'ambiente in qualche modo condiziona il funzionamento della tiroide. C'è qualcosa che si può fare per mantenerla più funzionante e sana? Guardi, sicuramente il modo migliore per prevenire molte malattie della tiroide, soprattutto i noduli di cui parlavamo prima, è un giusto apporto di iodio, che in Italia purtroppo ancora non c'è. In molte zone dell'Italia, nonostante l'Italia sia circondata al mare per i suoi tre quarti, hanno carenza iodica nel territorio. Per cui i soggetti vengono ad assumere una quota di iodio deficitaria. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che bisognerebbe assumere 150 microgrammi di iodio al giorno, in Italia se ne assumono meno di 100, tra 50 e 100. Come facciamo a sapere? Ma più o meno si conosce la mappa delle zone a carenza iodica. Più sono interne e peggio è. Dalle nostre parti, se lei comincia ad andare sui colli albani, verso il Frusinate, verso il Reatino, sono tutte zone a carenza iodica. A Roma invece? A Roma si ritiene che non ci sia, ma a Roma c'è una popolazione di importazione. Siccome è importante questo discorso dello iodio nel momento, di nuovo, nei bambini, negli adolescenti, perché una volta i noduli si sono formati, lo iodio non funziona più. Lo iodio funziona assicurando un buon funzionamento della tiroide nel momento in cui questa è più soggetta a sviluppare noduli. Cioè il periodo sempre infantile, adolescenziale, e anche il periodo delle gravidanze. La tiroide in gravidanza è fondamentale. Se uno non assume la giusta quantità di iodio, da un lato si ha un aumento di volume della tiroide, il gozzo, gravidico, anche ritratto per esempio da pittori del passato, del Seicento, da Leonardo da Vinci. Le madonna e Leonardo da Vinci hanno tutto il gozzo. La madonna delle rocce ha il gozzo. Incredibile. C'è anche la madonna del gozzo, anche dipinta, adesso non ricordo se è da Piero della Francesca o qualcuno. Però, vede che... Ma era sinonimo di fertilità. Avere la tiroide in gravidanza era sinonimo di fertilità. Gli egiziani legavano un filo di erba intorno al collo delle giovani donne, così si narra, e quando il filo di erba si rompeva, voleva dire che la donna era incinta, non c'era il test in farmacia a quei tempi. C'era il test della tiroide, così, insomma, diciamo, in maniera un po' rudimentale. Mi piace il modo del professore di raccontarci, anche di darci un po' di notazioni così culturali, che aiutano a capire anche il nostro rapporto, negli anni, nel tempo, con questa ghiandola, con questo organo. Le cose, appunto, oggi sono cambiate, sappiamo quindi che dobbiamo tenerla sotto controllo, soprattutto in gravidanza, soprattutto i bambini, dobbiamo portarli al mare? Ma questa storia del mare, vedi, è un altro mito che va sfatato, perché... Non basta? No, ma è sempre... Una giornata a Ostia. Allora, sai perché c'è lo iodio, sta nel mare, sta poco nelle terre, soprattutto nelle terre vulcani, che l'Italia è fatta tutta di vulcani, anche i nostri colli albani sono vulcani, i laghi di Albano, di Nemi, sono vulcani spenti. Perché lo iodio è comparso sulla faccia della terra tardi, relativamente, qualche milione di anni fa, ma dopo altri metalli, per cui si ritrova negli strati più superficiali della terra e le piogge nel tempo lo hanno lavato via dalla terra, soprattutto nelle zone vulcaniche, perché le zone vulcaniche, quando ci sono state le grandi eruzioni nel passato, miliardi di anni fa, hanno formato uno strato di lava impermeabile, su cui tutto scivola. Lo iodio sta al di sopra dello strato di lava ed è stato lavato via verso il mare, quindi ne trova di più nel mare che sulla terra interna. ma nel mare non è che poi ce n'è così tanto, perché è stato calcolato che per avere l'apporto di iodio che le dicevo di 150 microgrammi al giorno, lei dovrebbe bere 3 litri di acqua di mare. Quindi faccio un po' lei il... Preferirei di no. Però ce n'è sicuramente di più nelle zone marine, in genere non c'è carenza di iodio, ma anche perché si mangiano di più i pesci. Pesci, alghe, contengono grande quantità di iodio. Quindi anche mangiare e consumare del po' pesce può aiutare. E soprattutto la cosa migliore per apportare lo iodio, è utilizzare il sale iodato. Cioè utilizzare al posto del normale sale da cucina il sale iodato. Non di più, poco sale, ma iodato è il nostro slogan. Poco sale perché fa male, ha la pressione sanguigna, lo sanno tutti. Ma usiamo quello iodato. Attualmente la copertura dell'uso del sale iodato viene effettuato soltanto nel 30% della popolazione italiana. In Austria, in Svizzera, nel 90%. E da quando loro hanno fatto questo il gozzo, i noduli della tiroide si sono ridotti dal 90% al 10% della popolazione di bambini. Come mai lo consumiamo così poco? Devo salutarla? Perché si conosce poco, viene esposto poco. Le dico soltanto che c'è un rafforzamento della legge che è stata emanata solo nel 2005 che dovrebbe uscire successivamente. Verrà prima o poi approvata dal Consiglio dei Ministri che mette anche delle multe perché bisogna esporlo nei supermercati, nelle mensi aziendali e addirittura nelle rosticcerie e nelle tavole calde. Quindi c'è l'obbligatorietà di esposizione e pena anche delle sanzioni. Allora il tempo è volato caro professor Pontecorvi con lei io la ringrazio è stata una bella conversazione abbiamo spaziato anche nella linguistica l'arte la geologia insomma ci ha dato tanti spunti interessanti di riflessione io vi rimando al sito dell'Associazione Italiana della Tiroide AIT associazioneitalianatiroide.org dove trovate poi tutte le informazioni per chi volesse saperne un po' di più io saluto e ringrazio il professor Pontecorvi grazie grazie a lei buon lavoro buon Natale vedo che anche sul vostro sito campeggiano gli auguri di Natale quindi buon Natale buone feste grazie ci fermiamo adesso restate con noi però perché tra poco cambiamo argomento e parliamo dei forconi e di questa rabbia che in maniera evidentemente differenziata c'è stata una separazione all'interno del movimento dei cosiddetto dei forconi ma insomma c'è una rabbia trasversale che sta crescendo vogliamo capirne le ragioni restate con noi grazie